Parte 12 Nelle baracche i mezzadri vagliavano la loro roba e quella dei genitori, e quella tramandata dagli avi. Sceglievano le cose indispensabili e il lungo viaggio imminente. Gli uomini non manifestavano debolezze sentimentali perché troppo esulcerati dalla rovina del loro passato, ma le donne presentivano l'accento nostalgico dei richiami del passato nel prossimo avvenire. Gli uomini frugavano nelle stalle e nei ripostigli degli attrezzi. Quest'aratro, quell'erpice, ricordi la senepe che avevamo piantata durante la guerra? Doveva arricchirci, dicevano. Gli attrezzi piccoli, fanne dei fasci e di una mezza dozzina ciascuno, cavane quel che puoi, qualche dollaro, quel che danno. 18 dollari mi è costato l'aratro a mano, oltre al porto. Finimenti, carrettini, seminatrici, zappette di tutte le dimensioni, tutto nel carro. Portale al paese, vendi tutto per quel che ti danno. Sbologna via tutto, carro e pariglia compresi. Tanto non servono più. Come? Mezzo dollaro per l'aratro. E la seminatrice costava 38. Me ne offrite due? Approfittate perché sapete che non me la riporto via. Ma prendetela con le mie maledizioni, ma sì. Cianfrusaglie e mucchiate sull'aia. Aratri a mano non ne vuole più nessuno. Mezzo dollaro vi do per il peso del ferro. Dischi e trattrici. Oggi non si vuol altro. E allora prendete tutto il mucchio e datemi i cinque dollari. Prendetevelo con le mie maledizioni per giunta. Ma cinque, avete detto. E non quattro. E come al sentirci venire voltavano insieme le teste per guardarci rizzando le orecchie. E le trecce alle criniere che la rosa faceva così bene con la fettuccia rossa. Otto anni il destro, dieci il sinistro, ma sembrano gemelli. Tanto precisi lavorano insieme. Vedete i denti? Polmoni di ferro, zampe sane. Quanto? Dieci dollari, carro compreso. Gesù Cristo. Piuttosto li accoppo e li do ai cani da mangiare. Alla malora comunque. Prendeteli se è preso al prezzo anche la rosa che li baciava nel morbido tra le nari. E tutte le mie maledizioni. Si tratta di ricominciare. California. Paese ricco dove la frutta cresce da sé. Si tratta di ricominciare. Ma alla nostra età? Ma un bimbo può, ma noi? Io e te, vedi, siamo quel che è stato. Non potremo mai essere quel che sarà. Siamo le scene che abbiamo vissuto. Siamo questa terra, questa terra rossa. Siamo gli anni di inondazione, gli anni di polvere creata dal vento e gli anni di siccità. Noi non si può ricominciare. Lo strozzino si è preso con la roba anche le nostre maledizioni. Ma l'amarezza ce l'ha lasciata dentro. L'amarezza che continuerà a arroderci per tutta la vita. I mezzadri tornavano mogi strascicando i piedi nella polvere rossa. Quando tutto il vendibile risultò venduto, letti e cucine, sedie e tavole, mensolette, cantoniere, secchie, vasche e mastelli avanzavano ancora ogni sorta di roba minuta. E sui loro superstiti sgabelli le donne si rivoltavano gli oggetti tra le mani. Ora sai perfettamente quel che si può e quel che non si può portare via. Ci toccherà per nottare all'aperto. Mezza dozzina di padelle e paioli, i materassi, i cuscini, la lanterna, due secchie. Ah, sì, il telone, sì, servirà da tenda. E la latta di petrolio, sì, vuota, servirà da fornello. E i vestiti, sì, tutto quello che c'è, il fucile, si capisce. Non si può andare senza fucile, scalzi e nudi e disperati e magari digiuni, ma senza fucile, no, il fucile ci vuole. Prendi anche quella caraffa, ma nient'altro, non c'è posto, il camion sarà pieno. La nonna e i piccoli sul materasso. Arnesi? Beh, una pala, una sega, le tenaglie e la chiave inglese, e ben inteso la scure, l'abbiamo da quarant'anni. E corde, corde quante ce n'è, e il resto, del resto cosa vuoi farne? Si lascia, se si ha tempo, si brucia. Le mamme si rivoltavano tra le mani le reliquie del passato condannato all'oblio. Questo era il libro di papà mio, gli piaceva. C'è dentro il suo nome. Questa pipa, anche, era sua, e questo quadro, un angelo lo guardava, sempre prima di mettere al mondo i miei. Oh, quel cane di porcellana. L'aveva portato zia Sedida alla fiera di San Luis. Cosa serve? Perché portarselo appresso la lettera scritta da mio fratello alla vigilia della morte? No, non c'è posto. Com'è possibile vivere senza le cose che sono la nostra vita? Spogli del nostro passato non ci riconosciamo. Ma fa niente, non c'è posto, bisogna lasciarlo, bruciarlo. E sugli sgabelli superstiti le donne guardavano il loro passato con occhi sognanti e lo bruciavano nella loro memoria. Poi si riscuotevano di soprassalto e ammucchiavano la roba sull'aia e vi appiccavano il fuoco, ma restavano a guardare con occhi sognanti le fiamme e distruggere la loro vita. Poi, frenetiche, aiutavano gli uomini a caricare l'autocarro e l'autocarro partiva, sollevando una nuvola di polvere. Dopo che l'autocarro fu partito, carico di rogba destinata al regattiere del paese, Tom mandò in giro curiosando per i luoghi che ricordava. Visitò la stalla vuota e il ripostiglio degli attrezzi che conteneva in tutto e per tutto i rottami di una falciatrice a mano fuori d'uso. Due maiali, neri, pigri e beati nel sole, sembravano chiamarlo coi loro brevi grugniti. Compiuto il suo pellegrinaggio, andò a sedersi sul gradino d'ingresso della casa, a quell'ora già all'ombra. Dietro le sue spalle, la mamma era affaccendata nella cucina. Faceva il bucato in un mastello e le sue robuste braccia lentigginose colavano acqua insaponata. Tom, speriamo che le cose in California siano meglio che qui. Tom voltò la sua testa. E perché non dovrebbero essere meglio? Non saprei, ma sembra troppo bello. Ho visto quei fogli stampati, sai, la propaganda, i prospettini gialli, e c'è scritto che c'è lavoro per tutti e paghe alte, e ho letto sul giornale che hanno bisogno di lavoratori per cogliere arance e pesche, e per la vendemmia. Lavoro pulito, non ti pare? E anche se è proibito mangiare frutta, non dirà niente, se si dà un morso almeno a quella guasta. E poi è un lavoro che si fa all'ombra, al fresco. Alle volte mi viene il dubbio perché mi pare esagerato tutto il bene che se ne dice. Tom recitò, Non costruire case troppo grandiose se non vuoi vederle crollare. Ho ben paura che è così, infatti. La Bibbia, vero? Credo, ma non ricordo bene. Faccio confusioni da quando ho letto un libro intitolato Le Conquiste di Barbara Ward. La mamma sorrise senza chiedere spiegazioni, e raddoppiò di energia nel torcere i cenci bagnati. E i suoi muscoli risaltavano come su braccia d'uomo. Anche il babbo di tuo babbo citava sempre la Bibbia, ma da quando si era messo a leggere l'almanacco del medico faceva confusione anche lui. Nell'almanacco c'erano tante lettere scritte da gente che non poteva dormire, o aveva la lombagine o qualche altro male. E alle volte il vecchio ripeteva qualche cosa dell'almanacco e poi diceva tranquillamente che era una parabola della scrittura. E si arrabbiava se vedeva ridere il babbo o zio John. Veniva mucchiando sulla tavola i cenci torti e duri come corde mostruose. Sono più di 3.000 chilometri, dicono, fino in California. Sono molti 3.000 chilometri. Quanto ci vorrà, Tommy? Ah, chissà, due settimane, forse dieci giorni, se abbiamo fortuna. Ma senti, mamma, non tormentarti. C'è una cosa che in prigione si impara. Mai pensare al momento della liberazione. Altrimenti c'è da spaccarsi la testa nel muro. Sì, buon consiglio, disse la mamma. E tornò a riempire d'acqua calda il suo mastello. E vi rituffò i cenci, ripresi a sciorinarli sott'acqua e a strofinare e a premere e a torcere. Sì, buon consiglio, ma non posso fare a meno di pensare a come si deve stare bene laggiù in California. Mai freddo e frutti dappertutto. Chissà se potremmo procurarcene una casa anche per noi. E perché no, se troviamo tutti lavoro? Tom notava il sorriso nei suoi occhi mentre lavorava. Ti fa piacere solo a pensarci? Ho conosciuto uno che era giusto della California. Mica parlava come noi. Solo a sentirlo parlare capivi subito che veniva da uno di quei posti laggiù. Questione che lui diceva che c'è già troppa gente ormai che cerca lavoro proprio là. A sentir lui le paga sono basse. Un'ombra passò sulla faccia della mamma. Oh, mica può essere vero, Tommy. Il babbo ha quel prospettino giallo dove dice che han bisogno di mano d'opera. Se non fosse vero non li stamperebbero mica. Perché costa. Chi glielo fa fare di raccontare frottole e spenderci anche tutti quei quattrini? E cosa ne so io, ma... Difficile dire perché lo fanno. Probabile che... Teneva lo sguardo fisso lontano contro il sole che illuminava la terra rossa. Probabile che cosa, Tommy? Probabile che come dici te, dove credi che si è cacciato il nonno. E il predicatore dove si sarà nascosto. La mamma si avviò all'uscita con le braccia cariche di panni bagnati e Tom si scansò per lasciarla passare. Il predicatore ha detto che andava spasso e il nonno dorme qui in casa. Di giorno viene qui a riposare. Tom udì alle spalle un passo strascicato e voltando la testa vide il nonno uscire dalla camera da letto di nuovo alle prese come al mattino con i bottoni ribelli. Vi ho sentito platerare, bofonchiò. Figli di cani, non volete manco lasciare dormire in pace un povero vecchio? Le sue dita impazienti riuscirono a sbottonare i due soli bottoni che avevano abbottonato e già di menti che nel loro primo intento si introdussero nell'apertura e grattarono con brio sotto i testicoli. La mamma rientrava con le mani rosse e gonfie. Si credeva che dormivi. Lascia qui che ti abbottonò io. E con rapide mosse precise gli abbottonò i pantaloni e il panciotto. Mai visto nessuno disordinato come te. Il vecchio ritorse, stizzoso. Vuol far tutto lei qui dentro. Perfino bottonarmi le brache. E lei, scherzosa, te ne accorgerà in California se ti lasciano andare in giro sbottonato. Non mi lasciano, eh? Gliela faccio vedere io. Se voglio, vuoi in giro con tutte le batterie l'ho scoperto. Gli fa vedere io. La mamma scosse la testa sorghignando. Da un anno all'altro si fa sempre più sconcio nel parlare. Un esibizionista! Ecco che cos'è. Il vecchio cacciò avanti il mento setoloso sfidando la nuora con lo sguardo derisorio dei suoi occhietti petulanti. Sì, signore. Non aspetto che è il momento di partire per la terra promessa. Sapete cosa voglio fare appena arrivato? Mi empio un mastello di grappoli d'uva e mi faccio un bagno nel vino. Gli edipiglio una cassetta vuota. Se la rimorchio fuori, la posò contro il muro accanto a Tom e ci si lasciò cadere seduto su. Ma laggiù lavoro anch'io nella frutta. Capacissimo, confermò la mamma. Ha sempre lavorato tutta la vita fino a tre mesi fa quando si è slogato l'anca. Sicuro, corroborò il vecchio. E perché no? Tom annunciò l'avvicinarsi del predicatore riduce dalle passaggiate. Curioso, disse la mamma, il sermone che ci ha fatto stamattina. Non è stato nemmeno un sermone, è stata una ciancia ma il tono era quello di una predica. È un originale, disse Tom. Parla strano sempre, come se parlasse tra sé, ma non è uno che la voltare a intendere. Hai visto il suo sguardo? disse la mamma. Ha lo sguardo di un uomo battezzato che ti va fino in fondo all'anima. E sembra con la testa bassa quando cammina pare che guardi in terra senza vedere. Quello è veramente battezzato. Esmise di parlare perché Casey era ormai a pochi passi. A capo scoperto vi rischiate un'isolazione, gli disse Tom. Pazienza, rispose il battezzato. Se è destino, è destino. Ma ho deciso una cosa. I tre ascoltatori avvertirono subito il fascino che esercitava appena si metteva a parlare. Ho deciso che vengo anch'io nel West, a non ciò che si. È il mio dovere. Chissà se posso venire con voi altri, brava gente. E ha muto lì imbarazzato dall'indiscrezione della propria domanda. La mamma guardò Tom augurandosi che rispondesse lui, ma quando vide che egli non intendeva valersi di questo privilegio che gli aspettava, perché uomo, parlo lei. Ci onorate, non posso decidere io, si sa. Gli uomini si consultano stasera, ha detto il babbo, per i preparativi della partenza. Saranno tutti qua. Lui, il nonno, John, Noè, Tom, Al e Connie. Ma se abbiamo posto, siamo felici di prendervi con noi. Il predicatore sospirò. Vengo ad ogni modo, la situazione è grave. Sono stato in giro a vedere, ho visto le case abbandonate, i poderi abbandonati, tutto il paese è un deserto. Lavorerò la terra e forse troverò pace. E predicare più niente? Domandò Tom. Predicare no. E battezzare? Domandò la mamma. Nemmeno. Vado a lavorare la terra, ho bisogno di sentirmi prossimo ai miei simili. Amen, disse la mamma. Verso sera, l'autocarro tornò dal paese sobbalzando nella polvere, tra un rumore di ferraglie e la polvere rossa. Era alta un dito sui fari e sul fondo del cassone e sul telone impermeabile. Nella luce sanguigna del tramonto tutta la terra pareva sanguinare. Al guidava, col busto sporto innanzi, fiero, serio, vigile e accanto a lui sedevano il babbo e zio John, ai posti d'onore, cui avevano diritto come capi della tribù. Dietro in piedi aggrappati alle tavole delle sponde stavano gli altri quattro, Ruth, dodicenne e Winfield, non ancora decenne, con sudici visi da piccoli selvaggi, con mani e labbra rese appiccicose dai bastoncini di diurizia che avevano estorto supplicando dalla generosità del babbo, con occhi stanchi ma eccitati. Accanto a loro stava Rosatea, reggendosi con una mano a un montante del tetto. Intenta a equilibrare sui piedi il peso del corpo e a neutralizzare mediante le elasticità delle ginocchia e delle anche le scosse causate dalle disuguaglianze del fondo tradale. Perché Rosatea era gravida e cautelosa? I capelli avvolti a treccia le incorniciavano il capo con una corona d'oro pallido. La sua dolce faccia tondetta ancora pochi mesi prima così sbarazzina e allettante aveva già messo sulla barriera della maternità. Cioè il sorriso della donna che si sa importante l'aspetto da saputella e il seno fiorente l'addome proteso i fianchi sodi le natiche che ancora pochi mesi prima sculettavano così provocatorie invitando carezze o sculacciate tutto il suo fisico insomma si era fatto grave modesto e serio in lei atti e pensieri miravano unicamente al frutto che le maturava nel grembo era per questo per riguardo al bambino in formazione che ora badava a equilibrare sui piedi il peso del corpo e a neutralizzare le scosse per lei il mondo intero era gravido pensava solo in termini di riproduzione e maternità coni il suo sposo diciannovenne che aveva impalmato una libidinosa puledra barada era ancora sconcertato dal cambiamento avvenuto in lei perché in letto non si azzuffavano più come gattini non si mordevano più non si graffiavano più tra risa soffocate e lacrime conclusive vedeva al proprio fianco una savia prudente equilibrata creatura che gli sorrideva remissiva ma con inquietante fermezza coni era fiero e insieme pavido di rosa tea se appena poteva la toccava con la mano le si accostava così da toccarla col corpo perché gli pareva che questo contatto fisico fosse ormai il solo vincolo che li tenesse uniti nella cabina di guida zio john sedeva sulle spine i 50 anni compiuti gli davan dritto a quel posto d'onore accanto al conducente ma in cuor suo avrebbe voluto poterlo cedere a rosatea cosa inaudita perché donna è giovane quindi non si sentiva a suo agio sedeva rigido coi suoi occhi da cane randaggio inseguito parco morigerato e sobrio per quasi tutto il tempo in cui il muro della solitudine lo proteggeva da ogni richiamo esterno era nell'intimo combattuto da voglie e barame che talora sfuggivano al suo controllo e per rompevano fuori con violenza in quelle occasioni zio john si impinsava fino all'indigestione beveva fino al delirio si infognava nel postribolo di saliso fino all'inebetimento ma saziate le voglie sedata l'insurrezione degli appetiti zio john ripiombava negli scrupoli nella malinconia nella vergogna e nella solitudine per scontare le sue colpe entrava furtivo nelle case e nascondeva pacchetti di gomma sotto i guanciali dei bambini spaccava legna gratuitamente dava via la roba un nuovo paio di scarpe una sella un cavallo non lui solo ma anche i suoi due compagni della cabina di guida sedevano corrucciati e pensierosi al chino sul volante distoglieva via via lo sguardo dalla strada per tenere d'occhio il cruscotto sorvegliando l'ago dell'amperometro che oscillava minacciosamente sentiva insomma tutto il peso della propria responsabilità perché l'aveva scelta lui la macchina la doveva guidare lui e mantenere lui se qualcosa non andava era colpa sua e anche se nessuno lo diceva ognuno sapeva e al più di tutti che sarebbe stata colpa sua perciò vigilava palpava ascoltava con la faccia seria e in famiglia tutti lo rispettavano nelle sue funzioni il babbo stesso capo tribù era pronto e disposto a tenere in mano una chiave agli ordini di Hall erano tutti stanchi nell'autocarro Ruth Winfield per aver visto troppo movimento troppe facce per aver speso troppa energia nel disputarsi i bastoncini di liquirizia e troppa emozione ogni volta che si scoprivano in tasca un pacchetto di gomma insinuatovi da zio John i tre uomini nella cabina erano stanchi e misti e risentiti perché avevano realizzato 18 dollari solido alla vendita di tutto il vendibile 18 dollari avevano mercanteggiato fino al massimo della loro capacità e pazienza ma quando avevano visto afflosciarsi l'interesse del compratore e quando lo avevano sentito dire che non voleva saperne della roba a nessun costo avevano ceduto e gliel'avevano data via a un prezzo inferiore di 2 dollari alla sua prima offerta e ora si sentivano avviliti ed esacerbati per l'essersi scontrati con un sistema che era al di sopra della loro capacità di comprensione e che li aveva buggerati rimaneva però un mistero per loro quello strano mondo del commercio Al senza mai allentare la sua vigilanza osservò mica di queste parti quel tizio parlava diverso da noi anche il vestito era diverso e il babbo spiegava nel negozio di ferramenta ho parlato con uno che conosco dice che vengono apposta di fuori quelli lì perché sanno che siamo in tanti sfrattati e costretti a sbarazzarci della roba gente del mestiere che sa comprare noi non sappiamo difenderci avremmo dovuto prenderci Tom forse avrebbe saputo fare meglio zio John disse e sì che l'hai visto anche te che non voleva saperne della roba non potevamo mica riportarcelo a casa quel tizio che conosco me l'ha spiegato dice che fanno tutti così i commercianti lo fanno apposta per fregarti il fatto è che noi non si è paratici non si sa trattare chissà la mamma come ci rimane male Al disse quando credi che si potrà partire non lo so stasera parliamo e si decide fortuna che Tom è tornato mi sento più sicuro con lui è in gamba Al disse c'era un tizio che parlava di Tom poco fa e diceva che è in libertà vigilata e dice che quando si è in libertà vigilata non si può passare il confine e se si va via lo stesso t'acciuffano e ti rificcano dentro per tre anni il babbo trasalì chi te l'ha detto come credi che facciano a saperlo non era uno sbruffone non lo conosco si parlava ma io non ho detto che ero fratello di Tom ho detto niente ho solo ascoltato Gesù spero che non sia vero abbiamo bisogno di Tom bisogna che gliene parli anche questa adesso come se non bastasse spero che non sia vero dobbiamo parlargli subito zio John disse Tom lo saprà di certo tacquero di nuovo tutti e mentre il camion proseguiva la sua corsa il motore era rumoroso di ogni sorta di piccoli inespiegabili rumori e anche i tiranti dei freni sbattevano e le ruote mandavano uno scricchiolio come fossero di legno e dal buco nel tappo del radiatore usciva un sottile getto di vapore Ruth Winfield gridando dov'è Tom dov'è scavalcarono le sponde dell'autocarro si lasciarono cadere a terra e presero la corsa verso casa ma quando lo videro in piedi presso la porta si arrestarono imbarazzati poi ripresero pian piano ad avvicinarli si guardandolo timidamente e quando gli disse ciao come va barmocchi risposero esitanti ciao bene restando immobili sul posto a osservare sotticchi il fratello grande che aveva accoppato un uomo ed era stato in prigione pensavano alle volte che avevano giocato ai prigionieri nel pullaio contendendosi il privilegio di essere il recluso Connie Rivers rimosse la tramezza posteriore di chiusura del camion scese e porse la mano a Rosatea che l'accettò graziosamente affettando il suo fatuo sorrisetto di prammatica Tom disse ehi Rosatea non sapevo che venivate con gli altri si veniva a piedi spiegò Rosatea e l'autocarro passando ci ha presi su poi disse ti presento Connie mio marito e lo disse con stile i due si scambiarono una stretta di mano squadrandosi scrutandosi negli occhi subito soddisfatti entrambi e Tom disse vedo che non avete perso tempo a Rosatea si guardò il grembo di sfuggita non si vede ancora mormorò mamma mi ha detto per quanto è in arrivo oh c'è tempo non prima dell'inverno Tom ridacchiò lo vuoi mettere il mondo in una di quelle casette bianche tra gli aranci vero? Rosatea si tastò la pancia con le due mani non si vede ancora niente ripetè e col suo sorriso di compiacenza si ritirò in casa la sera era calda nella luce riverberata del tramonto senza alcun segnale la famiglia si riunì a consiglio attorno all'autocarro e aprì la seduta il crepuscolo dava risalto alle cose ogni albero ogni piantina la casa e l'autocarro le persone gli animali e le pietre parevano disegnate all'acqua forte assumendo un più alto grado di individualità il mutamento d'aspetto era notevole soprattutto nelle persone avevano l'aria più posata e più calma la famiglia si era adunata nel luogo più importante attorno all'autocarro la casa i campi erano cose morte cose del passato l'unica cosa viva attiva era la macchina emblema del presente e del prossimo futuro la veneranda Hudson il babbo fece il giro dell'autocarro esaminandolo con attenzione poi si accoccolò per terra e si cercò un fuscello per disegnare nella polvere zio John si accoccolò vicino a lui il nonno affacciatosi sulla soglia vide i due accoccolati e si affrettò a raggiungerli e prese posto di fronte a loro seduto sul predellino del camion i tre costituivano il gabinetto del governo Noè Tom Hall e Connie si accoccolarono primi due formando semicerchio al cospetto del nonno poi comparve la mamma con la nonna e dietro al loro Rosatea che procedeva con andatura aggraziata le tre donne mani sui fianchi presero posto in piedi alle spalle degli uomini accoccolati infine arrivarono Ruth e Winfield saltellando su un piede solo e cercarono un rifugio tra le gonnelle solo il predicatore per delicatezza non assisteva alla seduta se ne era rimasto a sedere sul retro della casa il babbo senza rivolgersi a nessuno in particolare iniziò il suo rapporto ci han pelato in paese sapevano che avevamo fretta si è incassato 18 dollari in tutto la mamma accennò un moto di protesta ma non fiatò noè il primo genito domandò tutto sommato quanto abbiamo il babbo disegnò figure nella polvere col fuscello che teneva nella sinistra emise due o tre suoni intelligibili poi rispose 154 ma Al ci dice che avremo presto bisogno di gomme di ricambio queste sono quasi andate era la prima volta che Al prendeva parte alla discussione in un consiglio di famiglia fino allora era sempre rimasto schierato con le donne si espresse con una certa solennità è una baracca esordì ho passato una visita a fondo prima di decidermi a compararla senza dar retta a quel buffone che giurava che era un ottimo affare ho messo il dito dappertutto nel differenziale ho visto che non c'era segatura ho aperto la scatola del cambio e non c'era segatura ho provato la frizione mi sono messo sulla schiena sotto e ho visto che lo chassis non ha ceduto l'accumulatore era difettoso e l'ho fatto cambiare le gomme sono andate ma di buone dimensioni facili da procurarsi olio non ne perde quel che mi ha deciso a comprarla è che è una marca popolare tutti i depositi di vetture di seconda mano sono pieni di Hudson Super 6 ed è facile ottenere pezzi di ricambio si sarebbe potuto avere una macchina più grossa ed elegante per lo stesso prezzo ma più difficile avere pezzi di ricambio e più cari questo almeno è quello che ho pensato io la chiusa voleva indicare la sua remissività al risponso del consiglio di famiglia tacque in attesa di esso il nonno non governava più ma era ancora il capo titolare del governo ricopriva una carica onoraria consacrata dalla consuetudine ma ci teneva al suo diritto di precedenza nella discussione e gli uomini accoccolati e le donne in piedi aspettarono che enunciasse il suo parere il nonno disse io dico che all'ha fatto bene alla sua età spezzettavo anche io come un lupetto ma quando avevo un lavoro da fare lo facevo con coscienza bravo Al te la sei cavata bene pronunciò la chiusa in tono di benedizione e Al si fece rosso il babbo disse a provo anch'io Al è il solo qui che si intende di macchine se erano cavalli non avremmo avuto bisogno del suo aiuto Tom disse ne so qualcosa anch'io fatto pratica a McAllister Al ha scelto bene con criterio Al si fece ancora più rosso Tom continuò vorrei dire una cosa quel predicatore insomma il reverendo Casey vorrebbe venire con noi aveva detto quello che voleva dire la proposta adesso era nelle mani del gruppo della collettività la caldeggiò è un bravo diavolo lo conosciamo da tanto parla un po' strano qualche volta ma è ragionevole e rivise la questione alla famiglia la luce si spegneva gradatamente la mamma lasciò il gruppo rientrò in casa e la si udì sfaccendare al fornello ma dopo un minuto ricomparve il nonno disse c'è due modi di considerare la cosa chi dice che i predicatori portano iella e chi dice Tom interruppe ma questo non fa più il predicatore il nonno agitò la mano come per scacciare una mosca importuna e ritorse un predicatore è sempre un predicatore anche se non predica più ma dicevo che c'è anche chi dice che invece porta un fortuna o almeno possono essere utili se muore uno il predicatore è lì per sotterrarlo se uno decide di sposarsi prima o poi ecco lì pronto il pastore se nasce uno è lì per battezzarlo quanto a me ho sempre detto che c'è predicatore la questione è saperli scegliere questo qui mi ha l'aria di un cristiano mica sembra un fanatico il babbo faceva rotolare il fruscello tra i polpastrelli e disegnava buchi simmetrici nella polvere non si tratta soltanto di sapere se porta bene o se è un buon diavolo bisogna fare i conti da vicino purtroppo vediamo il nonno e la nonna fan due io John e mamma cinque Noè Tommy Hall otto Rosatea e Connie dieci e Ruth e Winfield dodici e i cani dobbiamo prenderli non si sa chi lasciarli e ammazzarli non si può e fanno quattordici senza contare osservano i polli rimasti e due maiali il babbo disse i maiali bisogna salarli li mangiamo in viaggio ma il problema è c'è posto per tutti sulla macchina e siamo in grado di nutrire una bocca in più senza voltare la testa ripete la domanda mamma siamo in grado la mamma si schiarì la gola quanto a essere in grado siamo in grado di niente né partire per la California né niente la questione è di sapere se vogliamo prenderlo con noi o no per conto mio non ho mai sentito che un joad abbia rifiutato assistenza a chi la chiede sulla strada di joad cattivi ne ho conosciuti ma meschini così mai il babbo ribatte ma supponi che il posto non c'è aveva provato vergogna al tono della risposta della moglie e si era voltato in su a guardarla torcendo il collo in modo aggressivo supponi che non c'entriamo tutti sul camion posto non ce n'è neanche per noi dodici ritorse lei non ci sarebbe posto per più di sei figuriamoci per dodici uno più uno meno è lo stesso e un uomo forte e robusto non è mai d'impaccio e proprio quando si ha due maiali è più di cento dollari che si deve avere paura di una bocca in più punto sul vivo il babbo riportò gli occhi sui suoi disegni nella polvere grazie a tutti